Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Allora raga, notiziona dell'ultimo minuto Cioè, in realtà la notizia a quanto pare è stata data ieri sera, io l'ho letta solo stamattina A quanto pare, a sorpresa, Siga ha rilasciato, sta rilasciando Finalmente, dopo tanti anni di richieste Virtua, una versione di Virtua Fighter 5 Su PC, cosa che avrebbero dovuto fare già tre anni fa Quando fecero uscire l'Ultimate Showdown su PS4, porco Giuda Infatti, vabbè, il gioco è quello, eh, intendiamoci In realtà, c'è da precipitare una cosa Il gioco arrivò su PC, ma solo attraverso l'utilizzo di Technoparrot Quindi dovevate avere il launcher apposito per giocarci Che alla fine era letteralmente la versione arcade da sala giochi Che è basata però su un'architettura Windows Invece qui parliamo proprio di una vera e propria versione di Virtua Fighter 5 Che dice, chiamata Virtua Fighter 5 Revo Con nome in codice Revo Porta il gameplay di Virtua Fighter 5 a nuove vete Rollback Nekod, raga, finalmente Finalmente si sono decisi a mettere sto benetto rollback Grafica 4K e contenuti aggiuntivi Ne fanno la miglior versione sempre di questo gioco leggendario Sicuramente, raga, allora Avete presente tutti i DLC pack Che c'è nella versione Per PS4 Quindi le skin a tema Yakuza Le skin a tema di Tekken Le skin leggendari Quelle che rifanno il primo Virtua Fighter Ecco, in questa versione saranno tutte in un unico pack Senza DLC Sicuro Perché questa cosa l'hanno fatta anche con Ultimate Marvel vs Capcom 3 Che nella versione old genre PlayStation 3 e Xbox 360 C'erano di DLC i personaggi di Shumagorath e di Jill Quando uscì la versione PS4 e Steam Arrivò il gioco invece e non ebbe i DLC Al contrario, anzi, ce li aveva già di default Quindi, sicuramente, raga Al momento, vabbè, i controller compatibili Sono Sono il controller dell'Xbox e il DualSense Ovviamente, raga, se abilitate lo Steam Input Nulla vi vieta usare anche per dire il DualShock 4 Per fare esempio Gli sviluppatori consigliano di giocare a questo titolo con un contro Vabbè, grazie al cazzo Cioè, Virtua Fighter di certo non lo giochi con la tastiera Oddio, ci sono i player che giocano ai picchiaduro con la tastiera Giocano bene, eh, raga Non lo metto in dubbio Però, diciamo che Diciamo che Virtua Fighter Essendo molto più tecnico Molto più impegnativo rispetto a un Tekken O uno Street Fighter Magari è meglio una tastiera E poi, vabbè Trovi i player che giocano a King of Fighters 2002 con la tastiera Ho detto tutto, praticamente Ho detto letteralmente tutto Al momento non si sanno né requisiti tecnici E... Dimmi, minimi Non si sanno minimamente i requisiti sistemi Né minimi né quelli consigliati Io sono sicuro, raga, che essendo un gioco Comunque, alla fine dei conti Non così pesante Essendo che usa un engine grafico Che è già testato Comunque Credo che il gioco non dovrebbe essere troppo pesante O poi tutto può essere alla fine dei conti Io infatti l'ho già messo nella lista dei sideri Perché vi dirò, raga Non penso che lo comprerò al Day One Non lo so Non dubito che comprerò al Day One Però mi potrebbe interessare Però vi dico Da una parte, per quanto io sia contento Che effettivamente Danno la possibilità ai fan Di giocare finalmente su PC A Virtua Fighter Dall'altra parte Sono un po', diciamo Un po', mi rammarica questa cosa Ma perché? Perché io vi spiego Io comprai la PS4 All'estate dell'anno scorso Per una ragione Proprio per Virtua Fighter Io comprai per giocare a Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Che successe Io iniziai a giocare a Virtua Fighter Durante quell'anno Durante l'estate scorsa Iniziai a giocare a Virtua Fighter Su PC Tramite l'emulatore della Playstation 3 Iniziai a giocare Che Volevo imparare a giocarci E siccome Diciamo La community più attiva Di Virtua Fighter 5 Era quella del Final Showdown Su emulatore Ho iniziato con esso Solo che Letteralmente Vedendo che c'erano problemi Di connessione Problemi di matchmaking Che non mi si connetteva Con l'emulatore Il consiglio più logico È stato Da parte della community Di Virtua Fighter Italia È stato O ti procuri una PS4 O ti compri una 5 Siccome a me la 5 Raga Fino all'estate dell'anno scorso Non me ne fregava un cazzo E siccome La ritenevo uno spreco Al momento Prenderla Ho detto Mi procuro una Play 4 Tanto ne trovo una a poco E poi posso giocarci Tranquillamente Il fatto cosa successe E poi vi dico Non è che ho subito Comprato la Play 4 Me la son fatta Prima per stare da un mio amico Che lui non la stavo usando In quei giorni Me la feci per stare Per un paio di giorni E mi comprai E comprai E comprai appunto Virtua Fighter Per poterlo Effettivamente provare Mi feci pure L'abbonamento online Ricordo E ricordo Quando io restituì La Play E dissi Ok Qui è necessaria La 4 Me la devo comprare Perché L'idea di sprecare L'idea di sprecare Letteralmente Quel mese di abbonamento Che avevo fatto Perché avevo fatto Così un mesetto di prova L'idea di sprecarlo Così Non mi andava a genio Giustamente Non potendo oggi giocare L'idea di sprecarlo Così tanto per Non mi scendeva E quindi Decisi di prenderlo Comunque ragazzi Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Comunque O comunque Questa versione Revo A me Personalmente parlando Mi fa piacere Comunque L'idea che abbia Il rollback Ci sta Spero Spero Tra l'altro Che Tra l'altro Spero Che in un'altra cosa Il fatto Che praticamente Aggiornino Con il rollback Anche la versione Playstation Che non facciano Lo scempio O comunque Che il rollback Sia decente Perché Hanno scritto Che ci sarà il rollback Ma non sappiamo Che tipo di rollback Sarà Quindi diciamo Così come ci può essere Tutto questo entusiasmo Prima di questa cosa E potrebbe anche Alla fine Venire fuori Una mezza cagata Tendiamoci C'è da dire Che comunque Per Siga Non è un grosso rischio Perché Virtua Fighter 5 È un gioco Molto vecchio Cioè Facciamo il conto Che la prima versione Virtua Fighter 5 È uscita nel 2009 Eravamo in era Playstation 3 La versione La versione vanilla Cioè Sono Più Cioè Sono 15 anni Che portano avanti Questo titolo Cioè È dal 2009 Raga Intendiamoci Cioè Quindi Io raga Alla fine Non Non mi aspetto nulla Non mi aspetto Io Sono contento Raga Perché effettivamente Ripeto Finalmente Arriva anche su PC Sta maledetta serie Sono stracontento Di questo Però Voglio proprio vedere Dove Effettivamente Siga Andrà a parare E soprattutto Che ripeto Facciano un netcode Decente Facciano un maledetto Netcode decente Cioè Si spera Raga Io ci spero Ora Da quello che si dice Comunque tra l'altro Il gioco dovrebbe uscire Intorno a quest'inverno Quindi Dicembre Gennaio Cioè Ferenzo Tra dicembre E marzo Cioè Fino a dicembre Fino a marzo Cioè Quelle Secondo me Entro Fino a dicembre Inizio febbraio Inizio gennaio Ce l'abbiamo Secondo me Poi tutto Può essere Queste sono solo mie Teorie Mie supposizioni E pare che tra l'altro Ci sarà anche Un enorme aggiornamento A livello di Balance update Verrà completamente Ribilanciato il gioco In questa versione Spero E ripeto E ripeto Spero che comunque L'introduzione In questa versione Possa in qualche modo Andare anche A fare A essere portata Come aggiornamento A fare qualche aggiornamento Anche nella versione Console Perché Attualmente L'unica maniera Per giocare Virtua Fighter 5 E la versione Play 4 Tanto Raga Mettetevi da conto Che nei tornei Si userà sempre La versione console Quindi Converrebbe Anche a loro Effettivamente Aggiornare Quella versione Perché il gioco È quello Raga Non è che dici Sono due giochi Differenti Cioè Cioè Il gioco Alla fine Alla fine Dei conti È sempre Quello È sempre Quello Virtua Fighter 5 E Ultimate Showdown Solo con un altro Nome Sostanzialmente È quello Il fatto Quindi Un minimo Di aggiornamento Di update Non dico Di aggiornamento Del netcode Ma L'update Del bilanciamento Potrebbero Effettivamente Rilasciarlo Anche su console Poi Tutto può essere Io Il vedo Sono contento Perché Finalmente Dopo tanti anni Si sono decisi A portare La saga Su PC O almeno Per chi Per i veterani Di Virtua Fighter Sicuramente Sapranno Che Esistono Le versioni Per PC Di Windows Per Windows 98 Intendiamoci Sia del primo Che del secondo Capitolo C'è anche Virtua Fighter 2 Su Steam C'è anche Virtua Fighter 2 Però Non vi pensate Che sia la versione Che girava Su Saturn O in sala giochi O Quando hanno fatto L'edizione HD Su Playstation 3 Qualche anno fa E letteralmente Una riedizione E la versione Mega Drive Schiaffata Nella Mega Drive Classic Collection Cioè Quindi Non è Sta grande Versione Invece Questa È letteralmente Una versione Degna Di questo Nome E sono contento Di questo Sono davvero Contento Sono davvero contento Ragazzi Perché Effettivamente Vedere Virtua Fighter 5 Sui propri PC Sarà una goduria E spero Tra l'altro Io ci spero Vivamente Che non Non finisca Nel dimenticatoio Come titolo Non finisca A proposito Così almeno Spero Non finisca Nel dimenticatoio Cioè O comunque Non finisca Per essere Un di quei giochi Che Già al Day One Non se lo Incula Nessuno Mi dispiacerebbe Da una parte Perché io dico Ok Come già detto Alla fine Per Siga Non sarebbe Questa grande perdita Perché comunque Non è un gioco Completamente nuovo Non stiamo parlando Di Virtua Fighter 6 Però Sono del parere Che questa operazione Sia proprio Spinta E voluta E proprio In occasione Del sesto capitolo Cioè Possa servire Come Diciamo Come terreno D'allenamento Tra virgolette Per cercare Di fare un rollback Quanto meno Decente Per poi Effettivamente Farne uno Degno di questo nome Quando sarà Che uscirà Un effettivo Sesto capitolo Si spera Si spera Vivamente Perché se dopo Questa ennesima Redizione del 5 Non si decidono A fare il sesto In quel caso Ragazzi Sarebbe solo Una grande presa Per il culo Sarebbe Per quanto Comunque Effettivamente Farebbe comodo Averlo anche Su PC Vabbè Per questo Che dire Se il video Vi è piaciuto Vi ricordo Di lasciarvi Un like Un commento Vi ricordo Di iscrivervi Al canale Vi ricordo Di commentare Di condividere Ci rivediamo Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video